E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi saluto Emil Brawl che ha indovinato il minuto e i secondi dell'oggetto del scorso video del murder mystery Ciao Ok, no, in effetti è meglio se ci aiutiamo la vicenda Cioè nel senso, come hai fatto accadere? Non lo so Non commento Sì, 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 sì Stai imparando, bravo È qua? E devi andare là Ok E poi qua E poi qua Sì 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 No, ti voglio picchiare Sì Che bello, ti ha fatto accadere Ora sono più felice Sprint Intanto faccio un balletto Oddio, oddio Hai visto? Che super Un balletto No No, no Sì, sì 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 Godota Godota No, va, va, mi sei baggato tutto Godota Cioè le mie mie mani sono Ti sta bene Ti sta bene Ah, ok, così e poi dovrei fare Sto rimbalzo così Ah, ma te, ma te sei bravo nei parkourà Non credere che sei scarso Ok, ecco Ciao No Ma che è Ma che è? Oddio Oddio Ma Ho capito Ho capito, ho capito Bisogna rimbalzare e poi fare così Mamma mia Ok Sì Sì Carina Sì, godo, 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 godo Sono morto Sì, ho preso il check Sì Ok, qua vediamo Ah Questa te non la capirai mai Questa te non la capirai mai Ma perché sono baggato? Aspetta Mi vedi che ho le braccia incrociate? Sembrano zombie Oh, per te l'ho normale Eh, vabbè Mi hai seguito E l'hai capito Ma? Oddio Oh, ma perché stai zitto tra i yardi? Non so tra i yardi Mi ha romanzato Sì Sì No 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 Mamma mia Sì E qua? E soccorro No, come cacchia? Che cosa fa qua? Ok, basta Non ci si può spingere più Sennò diventa troppo difficult Ma qua qua come fa? Sì, sono supremo E poi... Ah, ok, ho capito Sì, sì Ah, ok Allora così Sì, godo, godo, godo tantissimo Sì, vai giù Vai giù Vai giù Sì Vabbè, tanto sono di nuovo qua Lo avevo preso il check Lo avevo preso il check Sì No Alla fine lo stiamo facendo comunque con la roba di... Esatto Sì No, dove c'è? Vai giù Ma c'hai le mani bagate pure tu? Sì Nooo, muoio Oh, no Pfff Oh, mamma Mori, mori Eh, frate, no, qua mi hai battuto di brutto Non, 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 non Sì no check 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 eh muori però no sì non è vero vabbè faccio così muoio sì corro Oddio, che salto Oddio, no, c'era lo slime Non ci credo Sì, godo No, vabbè Sì Sto morendo Sì Sto morendo No Ti devo fermare Non mi fermerai mai Sì No, sto morendo No Dai Sì Oh mio Dio, questo è difficile Dai L'hai preso l'altro check? Sì, l'ho preso, l'ho preso No, vabbè Mamma mia Sì, ma non ci ho fatto No, sti salti Fatti, sti salti No, te non puoi capire cosa c'è dopo Te, secondo me, questo è impossibile Questo è il livello impossible Non ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Hai preso anche l'altro check Certo Certo È qua? Ah, ok Così Così Ok, qua ci sono le scale Ok, ho capito Non ci credo No, non ci credo Madonna Sì Sì, direi vero Tututututum Allora Sium, 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 sium No Sium Sì 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 Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Sì Questa c'è Questa c'è Quanto ti vorrei far cadere Non puoi Infatti ho preso il prossimo check Così Questo salto così E questo salto così Poi questo salto così E poi direttamente qua Poi questo Ti dà lievitazione Non penso che bisogna Salire No, frate, sono arrivato Sono arrivato al mondo normale Quanto Non ho parole Non ho parole Cioè, ragazzi, guardate quanto abbiamo fatto Quanto abbiamo fatto Cioè E ce ne manca ancora un botto Ce ne manca ancora un botto Vabbè, ragazzi Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Come al solito Lasciate un bel mi piace Scrivetevi al canale E attivate la prima Ci si vede